Daniel numero 3 di Mistral Blitz parte piano anche Mimer Presse e allo stacco la macchina è quindi Mojiluk Font che si porta al comando con all'esterno Monzonfels la schiena di Mojiluk è presa da Mandarino GV mentre si accoda comunque secondo Marinazzo Lod a questo punto e quindi si procede sulla prima curva con una frazione in 14 per i primi 200 metri con sempre Mojiluk che va al comando c'è l'attacco ora di Mandarino GV che quando i 400 metri sono passati in 29.9 rileva il primo battistale della corsa e va a condurre quindi Mandarino GV, Mojiluk, poi Monzonfels quindi Mister Pitin e via via gli altri con l'avanzata in corsia esterna di Milione Erdeni la cui schiena è presa dal numero 8 Mimer Presse 45.7 per i primi 600 metri con Mandarino GV sempre al comando la risalita graduale di Milione Erdeni che ora è al fianco di Mojiluk Font mentre di dietro c'è un'altra pariglia quella formata da Monzonfels e Mimer Presse si va per il chilometro che viene passato dalla battistrada in un buon 1.17.1 14.9 di frazione ha accelerato Mandarino GV cerca di farla pesare soprattutto a quelli che sono di fuori ma Milione Erdeni tiene comunque il passo ed è a mezza lunghezza mentre sembra un tantino accusare Mojiluk Font dietro c'è ancora Mimer Presse che è in schiena a Milione Erdeni quando i cavalli stanno per entrare in addirittura di arrivo ancora con Mandarino GV saldo leader che ora deve provare a mantenere la posizione fin sul palo per il momento allunga Mandarino GV che guadagna 2 di margine su Milione Erdeni e Mandarino GV continua tranquillo la sua prestazione viene a vincere facile, 3 lunghezze di margine su Milione Erdeni e poi Mimer Presse 2 minuti e 3 decimi retta d'arrivo in 14 spaccati 1.15.2 la media al chilometro per Mandarino GV Gennaro Casillo per i colori della scoreria Erlu un figlio di Ambrogol che è riuscito a ottenere strata agevolmente dopo 400 metri di corse e da lì non ha avuto più problemi si è dovuto adeguare secondo Milione Erdeni che non ha così potuto rispettare il ruolo di primissimo favoreto della corsa mentre per il terzo posto ancora Mimer Presse 1.7.8 l'ordine di arrivo della terza di Tordivalle Grazie. 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 Grazie.